SONO FELICE CHE TU SI A DASHINA C'è già stata un'epid... All'epoca... Capisco... Spero... Addio... Ti serve qualcosa? Ho portato del SAKÈ Molto gradito... No... Ma... Il tuo te... Chi è stato? Lo Rishin... Stardam... Ma lo... Con quella canna meccanica... Quante possibilità... Posso usare vari agenti purificato... Quindi... Se tro... ù... Su ال呢? Miagetider... Ok... Ad zeigt mir... Ma... ... tu sei cos'è successo ladri david in che anno si in che a di meno è l'anno del pellegrina il pellegrinaggio alla festa ma che se lo scultore parla non ricordo ma si direbbe non 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 Grazie. 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 Grazie! Sì, sì. A presto! 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 A presto!